... ... ... ... ... ... ... E' troppo molto il braccio perché io ho aggiuntato dentro un pezzo Se potevo provare a toglierla E' la prossima volta Mi fa un po' di prove a vedere come metto con le pilota C'è un po' di più Grazie per la visione!